Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 8 agosto 2019 Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo sia sempre fatta la sua santa e divina volontà Come avete visto dalla locantina della miniatura da Roma uscirà un qualcosa che lascerà veramente il mondo con il fiato sospeso E' come se accadesse qualcosa di anormale da Roma E guardate che non si intende Roma in quanto città italiana, non come Roma capitale d'Italia Ma come Roma centro della cristianità, come Roma vaticano in questo senso, come nella santa chiesa Che cosa uscirà fratelli e sorelle? Andiamo a leggere il messaggio di oggi, l'unico messaggio che leggeremo perché è molto lungo Di San Michele Arcangelo a Luzio de Maria del 20 giugno 2019 E vediamo che cosa dice Questo è l'appello, affrettatevi, se non accelerete il passo Non riuscirete a fare il necessario per poter resistere alla prove del male La battaglia spirituale contro il popolo di Dio si sta in asprendo Ed io vengo inviato a chiedervi di correggere la vostra vita Mi è stato chiesto di chiamarvi alla santità Di chiedervi di cambiare completamente il vostro modo di comportarvi e di agire Invocate il nostro Re e Signore Gesù Cristo E chiedete ai vostri angeli custodi di mantenervi in una costante adorazione Così che non vi distragliate con il male Figli della nostra madre, regina di tutto il creato Siate astuti Questa battaglia che il demonio sta portando avanti con le anime Con ferocia svela il suo obiettivo principale, la disunione Quindi divide e una volta che ha separato attacca con maggior forza Divide le famiglie, divide le società Divide la società quindi Divide i gruppi che all'interno della chiesa si impegnano a diffondere una particolare diversione Divide coloro che appartengono agli ordini secolari Divide i servitori all'interno delle chiese Divide i gruppi che evangelizzano tra il popolo di Dio Divide e divide per vincere Divide l'uomo nella sua psiche Per fare in modo che predomini l'ego Divide il cuore dell'uomo perché predomini l'ego Divide la regione dell'uomo perché sempre predomini l'ego Divide la parte terrena della vita dell'uomo Cosicché si dibatta tra due stati Quello di Dio e quello del io sono fatto così Non permettete a Satana di deformarvi l'anima Non permettete che il cuore si indurisca Non guardate le debolezze altrui con mancanza di umiltà in voi Non dovete vivere intrappolati nello stato di ricerca di difetti altrui Perché questo è pericoloso per l'anima Cioè uno deve guardare a quello che è dentro di sé Fratello e sorello Non si possono guardare i peccati altrui Lo dice anche Gesù nel Vangelo Non guardiamo la pagliuzza del nostro fratello quando noi abbiamo una trave E noi dobbiamo guardare noi stessi prima di dire dell'altro Fratello e sorello Noi dobbiamo guardare noi stessi E dice ancora Siate astuti di fronte agli attacchi del male Del quale conoscete bene i trucchi ed il suo impegno contro tutti i figli della nostra regina Perché il demonio ha come obiettivo finale Quello di distruggere i figli della nostra e vostra regina e madre Non combattete con le armi mondane Ma con quelle spirituali Con il santo rosario E con la santa preghiera Con la santa equarestia La santa messa E eccetera eccetera La santa adorazione Tutte le varie cose Santa confessione I sacramenti La risposta è una Non ce n'è un'altra È l'amore Fratello e sorello È urgente che vi svegliate Che guardiate sempre il mondo cronotica realistica Attraverso la quale scoprirete la disastrosa condizione spirituale odierna Ovviamente Ci aggiungo io odierna perché è così Morale Sociale Culturale D'umanità Dove il male sta Dove il male regna dappertutto Unita ad un vandalismo satanico di morte Ed è questo è vero fratelli e sorelle Basta guardarti in giro Su questo C'è poco da aggiungere fratelli e sorelle Combattete utilizzando l'amore divino Ed in questo modo che si differenziano i figli della luce dai figli delle tenebre L'umanità non ha saputo provvedere il momento attuale Perché non crede a questi messaggi fratelli e sorelle in generale Non ci crede Quindi come fa a provvedere a questo momento Se si allontana da Dio Questo lo aggiungo io come inciso Invece ha distrutto la maggior parte della dote che Dio aveva dato all'uomo Ed è in questo momento che sta vivendo una guerra passiva Nella quale sono impegnate le grandi potenze In diversi paesi c'è la guerra del dominio ideologico La guerra della persecuzione religiosa La guerra della fame La guerra tecnologica La guerra economica Tramite la quale il potere domina e decide Amati di Dio L'umanità soffrirà Non per volontà di Dio Ma a causa dei propri atti e opere al di fuori della volontà di Dio Come dicevamo anche quando è successo i gay pride Con quello che è accaduto fratelli e sorelle Ma fratelli miei e sorelle mie Non è il problema di Dio Il problema è nostro che ci allontaniamo da Dio E ci attiriamo questi castigli fratelli e sorelle Ma è ovvio che sia così Non possiamo dare la colpa a chi A noi stessi ci dobbiamo dare la colpa E dice quattro cose La peste diventerà una pandemia E l'uomo limiterà il suo agire nel mondo Preparatevi Quindi è come se ci fosse un virus È di malattia fratelli e sorelle I continenti tremeranno fortemente Terremoti L'economia passerà dall'essere Una necessità dell'uomo Ad un essere un Dio in più Per questa generazione E per la sua sopravvivenza Quindi il denaro diventa ancora più mammona Ancora più satanica la questione E poi un'altra cosa Quello che dicevamo del titolo della puntata Da Roma uscirà quello che lascerà Attonito il mondo intero La lancia trapasserà nuovamente il costato di nostro e vostro re Signore nostro Gesù Cristo Quindi è come se da Roma uscirà una cosa incredibile Fratelli e sorelle In ogni generazione Dio allerta E l'uomo non ascolta e lo nega L'uomo soffre a causa della sua stoltezza La misericordia divina si mostra nel suo splendore A coloro che continuano ad avere fede E si sforzano di essere migliori in ogni ambito Apostoli degli ultimi tempi Siate tenaci Siate forti nella fede E non dimenticatevi Che l'orologio umano Non sta avanzando Ma sta retrocedendo Non dimenticatevi Che la Trinità Sacrosanta La nostra e vostra regine Hanno sete di anime Cioè ci vogliono salvare Fratelli e sorelle Questo è il vero punto Quindi io non vi aggiungo altro Perché credo che sia quasi palese Quello che avete ascoltato Quindi Dio vi benedica Preghiamo Preghiamo E preghiamo Bene fratelli e sorelle Sia fatta la volontà di nostro Signore Gesù Cristo Sia fatta la sua santa e divina volontà Preghiamo per la Santa Chiesa Dai papi Francesco e Benedetto Fino all'ultimo dellaici Passando per sacerdoti Cardinali Vescovi Eccetera eccetera Preghiamo per le famiglie Preghiamo per il mondo intero Fratelli e sorelle Sia fatta la sua santa e divina volontà Se volete Se potete Fratelli e sorelle Iscrivetevi a questo nostro canale Con la campanella Diffondendo se Dio vuole La parola di Dio E ovviamente questi video E se volete Ascoltateci E seguidici Con le nostre puntate Che faremo In questa giornata E nei prossimi giorni Dio vi benedica Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo Ave Maria Santa giornata E Dio vi benedica Grazie